Letizia, come mai questa scelta di venire a sala? Sicuramente mi hanno parlato molto bene di questa società, di questa squadra, poi sapere che è una squadra emergente, questa società, questa squadra, di buon livello, appunto perché so che è una città che è molto seguita, la palla a polo, quindi sperare di fare un buon campionato e dare presentazioni a tutti. Conosci già qualche collega che gioca a sala? Hai invitato con qualche collega già in passato in altre squadre? Conosco Giulia Radice, Valentina Prea, Valentina Prea sempre come avversaria, quindi mi fa anche tanto piacere essere compagna di squadra quest'anno. Un'altra curiosità, vedevo dalla tua scheda che sei particolarmente legata al numero 3, soltanto che lo scorso anno non hai avuto la possibilità di avere questo numero, hai scogitato, hai trovato un escamotage, prendendo il 12 e aggiungendo un più tra i due numeri, c'è qualche motivo particolare che ti lega al 3? Ci sono affezionata, ma niente di particolare, solo un numero che mi porta bene, va a una superstizione, però è un numero che mi è sempre piaciuto. Grazie a tutti.